Carlo Pederniana, CT della Nazionale della Repubblica di Vignore, come va là? Beh dai, bene, abbastanza bene, insomma, sempre che sai che noi facciamo come allenamento, come ben dito, e quindi abbiamo bisogno di guardare le caviglie a calcio per non avere problemi. Adesso ne prepariamo per la corsa di stasera, stasera magari il tema è un po' più serio, dai, almeno un tema al podio, perché così per dare una sorta di soddisfazione, ma anche ai tifosi che ne seguono costantemente, in una maniera incredibile. Soltami, ma a telefona, prima, certo, Usain Bolt, bo, non so, ma dite che la ricorre per Vignore, ma... Usain, non so, perché noi chiamiamo tanti dei buoni, eh, Usain, bisogna che mi fanno vedere i tempi che c'è adesso, perché il Bolt di una volta, sennò chiamiamo i Bolt in paese, sai... Ma che disegno che se c'è, va... Dica una roba del genere, va, vediamo che a Michele è meglio. No, perché dopo Gianca Zen, che sta penalizzata, a calcio scommesso, chi vuole... Esatto, esatto, ma mi credo che alla fine veni chi a fare il paglio, sa, per divertimento di chi, ma noi siamo i miei unici che rispetta sempre le regole, alla fine mi risparlificherà tutti, anche a questi qua, sa, alla fine, se arrivi i 6 ultimi, arriveranno i primi, perché noi sai sempre, ovviamente... Esatto, ascolta, i Gazi, i Rover, i Rover, poi le bale, eh. Ah, c'è i Gazi, come che è, che dentro, che lì, qualche d'un, lì, non posso fare i nomi proprio, insomma... Esatto. Eh, dai, quindi del Rover ancora ancora, quelli del Rover, che dei Gazi, così dai, soprattutto, dei Gazi. Eh, eh, ma è, ok, che ho visto, infatti, attacca fuori i cartelli, eh, qui è il Rover, ma, eh, cos'è sta storia? Eh, ma loro li deve dire qui è il Rover, che sono i Saint-Golais, dove si vede i Vignoli, lo sappiamo tutti, perché lo sa tutto il mondo, con la passata Repubblica, ormai, siamo ufficiari, non mi scrivono chi le Vignole, no, capi? Esatto. Altri tirano via, bognano la Vignole, che fa sui cartelli, che... Esatto. Dopo, ho visto che c'è un po' di casino per la cosa del Vallo, che è, regole nuove... Sì, noi, eh, abbiamo noi il Vallo, abbiamo fatto il regolamento per direttirsi, e dopo allora, tu ti vuoi vincerti, sai, allora sei dimesso, non responsabile del Vallo, ma abbiamo messo un altro per avere la stessa regolamento. Ho capito. Ho capito, così, almeno... Eh, scusa, ma, allora, l'ultima roba, adesso, eh, 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 sto pulmo per l'Inghilterra... Sì. Il pulmo, sì, il pulmo, bisogna farne più di un pulmo qui, non c'erano tutte le guardie armate che vengono nel Paese, perchè voglio andare via tutti, eh. Ah, ho capito. Che è nazionale, la segra, fino ad Italia, devi stare... Sì, no, la miseria, la miseria. Ma noi, che nemmeno uno che non vuole venire, adesso, si prenderemo lì con... Tocca la venderemo un po' dei molca bondi, perchè sennò... Ah, ma, difatti, difatti, no, per fare una bella spesa. Sì, per fare una bella spesa, sì, sì, il Campo Vignole avvenza... Pensa, ma per anche chiestare a tutti. Eh, eh, eh. Chiestare a tutti che noi, volentieri, i tifosi, insieme agli atleti, capito? Soltà, cos'è, queste 40-50 medaglie d'oro? Sì, adesso, il punto è molto puto è quello che ti ho detto l'altra volta, perchè è vero che effettivamente, guarda, lì si zuga per scherzare. Eh, eh, eh. Lì va bene lo stesso, allora, figurati. Chiaro, chiaro. Quella lì, se vedessi che allenamenti, il buteico, il tiro al chico d'oliva, che non queste immagini neanche, guarda. Ti dico neanche ai metri, perchè sennò ci spaventano. No, 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 no. Gli atleti nazionali è staccato. No, 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 no. Quindi, vabbè, allora, disete che... Se vuole vedere i risultati, te li vignore. Se vuole vedere le miserie, escai, vabbè. Escai, esatto, e noi non che domandei neanche niente, quindi... No, difatti, difatti. Non è che noi domandei niente, perchè sennò proprio... Scusa, invece dell'arco, proprio... Sì, vai a vedere, capisci, vuole. Ehi, vai a vittarne, tutti a vedere, capisci con arco. Ti vedi dentro quel... Già l'invidia. Già l'invidia. Già l'invidia. Già l'invidia. Sì, vedi anche quella storia lì della caserma, della sala stampa, dell'olimpiadi del 32. Esatto, esatto. No, va avanti a pacche, eh. Ah, ne va avanti mica. A me non so, non è adesso. Adesso dovremmo fare le lezioni. Chi no? Perchè fare noi come... Eh, esatto. Assessori. Lavori pubblici, ma noi, eh. Vabbè. I trattori armati. Esatto, 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 Carlo. E che fai, gli scudi gaventi, hai vissi, no? Certo, sì. E le lance. Benissimo, benissimo. Sono a posto. Boh, come cittiva era meglio dei Prandelli, sicuramente. Ah, beh, accade quel dai. L'emmo non però a me Prandelli. Tegli a pulito perchè i miei parchi li vanno a primavera a bere. Eh, i gan quelli, no? Sì, i gan quelli. Bisogna un po' di inglesi, no? Sì, sì, sì. Sai che inglesi che mi piace dire che... Loro i fai, i bevi e i franca sesso prima di sport. Esatto. Tegli a uccarlo, eh. Noi, che tenite le moglie c'era ai su, che le contro le noi. Esatto. E se ne fia le birre contro le noi a capire. Esatto. Tranquillo. Avanti tuta.